Noi siamo qui per manifestare per le varie problematiche della zootecnia in particolare, principalmente per la brucellosi. Siccome questa brucellosi continua ad andare avanti, non sappiamo più come comportarci, visto che gli allevamenti si stanno perdendo. Noi siamo qui per chiedere se si può fare qualcosa anche con la vaccinazione, tentare questo passo, perché finora ce li stanno solo abbattendo gli animali. Solo questo. Chiediamo magari all'assessorato, alla regione, di chiedere la deroga al Ministero della Sanità per fare questa vaccinazione, per i piani vaccinali e cose varie. Siamo qua oggi riuniti per quanto riguarda alcune problematiche della zootecnia calabrese. Vogliamo mettere all'appello tutti i nostri politici perché praticamente non ci tengono in considerazione. C'è per quanto riguarda brucellosi, il settore di ovicaprini che vengono bloccati e che non vengono risarciti al momento di quelle indennità che poi hanno e abbiamo tutti quanti per quanto riguarda il nostro settore. Grazie.